E' il principale di cammino e quanti dei domini, è sulla differenza. E' il principale di cammino e quanti dei domini, è sulla differenza. Non mi distingo bene però dall'odore, sono certo di sapere chi sono. E' probabile che non sappiate che sull'imate ci sono esseri chiamati uomini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E i bambini di una volta uomini non giocano più, piano piano perdono il valore di tutte le cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.